All'Angelus Papa Francesco si è soffermato sulla preghiera del Padre Nostro recitata da Gesù e da Lui insegnata agli Apostoli. La parola Padre, ha detto il Pontefice, è la chiave principale per entrare in contatto con Dio e stabilire con Lui un dialogo confidenziale costante. Poi le tre richieste fondamentali che si esprimono nella preghiera al Padre, il pane, quello necessario e non il superfluo, il perdono fondamentale per renderci strumenti di misericordia per gli altri, l'aiuto nelle tentazioni, consapevoli che la condizione umana è sempre esposta alle insidie del male e della corruzione. L'insegnamento di Gesù sulla preghiera prosegue con due parabole che insegnano ad avere piena fiducia in Dio e a non aver paura di chiedere con insistenza e audacia ogni cosa, soprattutto il più grande dei doni, ha affermato Francesco, troppo spesso dimenticato, che è quello dello Spirito Santo. La preghiera è il primo e principale strumento di lavoro, ma sentite bene, ascoltate bene questo, la preghiera è il primo e principale strumento di lavoro nelle nostre mani. Insistere con Dio non serve a convincerlo, ma a irrobustire la nostra fede e la nostra pazienza, cioè la nostra capacità di lottare insieme a Dio per le cose davvero importanti e necessarie. Nella preghiera siamo in due, Dio e io, a lottare insieme per le cose importanti. Tra queste ce n'è una, la grande cosa importante che Gesù dice oggi nel Vangelo, ma che quasi mai noi domandiamo, è lo Spirito Santo. Nei saluti, il pensiero del Pontefice è andato all'ormai imminente 31esima giornata mondiale della gioventù di Cracovia, che vedrà il suo arrivo il prossimo mercoledì, e alle migliaia di giovani che già si stanno incamminando da ogni paese per vivere questa esperienza sotto l'intercessione di San Giovanni Paolo II, ma anche di quanti la seguiranno attraverso i media. Il Papa ha chiesto la preghiera di tutti e ha ringraziato quanti si stanno preparando per accogliere i pellegrini.